Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato ad un'applicazione tutta nuova e completamente gratuita Non ci credete? Andiamo a scoprire insieme, ma però prima due parole L'applicazione in questione si chiama CapCut, la vedete su questo tributo di monitor che qua esiste per iOS ma però anche per Android quindi sono due applicazioni gratuite sia per iOS che per Android Cosa ha di particolarità questa applicazione? Che è gratuita, infatti è gratuita rispetto a InShot, Bio, Videolap, tutti quelli che praticamente sono della stessa pasta fatte più o meno dalla stessa fattura però distingue questa applicazione per la sua gratuitità quindi in questo primo video andremo a vedere la panoramica come tutti i miei tutorial e la panoramica di questa stupenda applicazione gratuita Ok amici, come nella tradizione di tutti i miei tutorial andiamo a vedere ora l'interfaccia di questa applicazione che finora a me sembra gratuita non mi ha dato atto di far sembrare che ci sia qualche abbonamento comunque lanciamo CapCut e vediamo subito che ci troviamo davanti a questa schermata io ho già fatto un progetto di prova quindi vedete che li trovate qui ma se voi non avete questo progetto vi troverete solo questo più ecco una cosa andiamo a vedere nelle impostazioni vedete che nelle impostazioni non parla di nessun abbonamento io non vedo niente che dica abbonamenti o roba del genere quindi stiamocene, ok? Stiamocene così per creare un primo progetto bisogna andare sul tasto più e caricare immagini o video a seconda delle vostre preferenze io adesso vado a caricarmi se li troverò mai più vabbè mi prendo questo così ecco una cosa che vi voglio far notare è che per visionare il video andate sull'immagine ok? Cliccate sull'immagine e viene visionato ok? Invece solamente per caricare il video cliccate su questi pallini, ok? Perfetto ora io caricherò un video e un'immagine, ok? Perfetto vado qua sotto, ho la possibilità di eliminare quelli caricati se no questa immagine è sbagliata, faccio così e la vado a cancellare e ne carico un'altra ok? Tutti quelli che se volete caricare l'immagine basta che cliccate sul pallino, ci siamo? se volete visualizzare ovviamente cliccate sull'immagine potete scorrere anche con il swipe verso sinistra e destra le vostre immagini, ok? Perfetto un'altra cosa potete anche cliccare qua su per inserire le immagini all'interno della lista diciamo della libreria delle immagini caricate ah, mi ha tolto il video però, mi ha tolto tutto allora andiamo un po', riprendiamo il video indietro mi ha levato il video, vabbè, facciamo così ok, andiamo a caricare e ora vedrete che ce li ritroviamo all'interno della timeline benvenuti in CatCup, ok? diciamo che è più o meno come in Shot è tutta la compagnia bella di questi programmi, ok? di queste applicazioni cosa cambia? la gratuitità, ok? è gratuito, quindi finora è gratuito qui abbiamo la timeline con all'interno i nostri clip che abbiamo importato le ho importate tutte non le ho viste più ma le ho importate tutte abbiamo la possibilità di fare il pinch to zoom per diminuire la visione della timeline o aumentarla vedete, è una cosa molto molto bella che, voglio dire, non tutti i programmi hanno come gestione delle clip e delle immagini ne abbiamo un sacco e mezzo qui sotto innanzitutto abbiamo tutte le cose che possiamo inserire andiamo a vedere prima le cose che possiamo inserire ci posizioniamo alla fine ecco, qui c'è il, vedete, il logo che però, se io vado qua e lo elimino vedete che il logo sparisce non mi viene praticamente messo all'interno del mio filmato cioè, almeno adesso poi proveremo a esportare e vedremo come fare la cosa che vi dico subito è che per poter accorciare un filmato si fa come al solito come tutte le applicazioni si prendono queste manigliette si tirano e le immagini o i clip video possono essere diminuite di lunghezza o, ovviamente, se una foto possiamo allungarla ok? quindi, clicchiamo al di fuori delle clip o delle fonti e andiamo a vedere cosa possiamo inserire allora, possiamo inserire innanzitutto, beh, ci sono la cosa prima è il taglio ok? che poi il taglio dà una serie di opzioni che non riguardano poi il taglio a mio avviso ma riguardano altre cose quello che riguarda il taglio è questo ok? quando io mi posiziono all'interno di una clip o di una foto quello che è vado sulla forbicina ed ho questo primo simbolo che è il taglia e viene splittata la mia immagine o la mia clip e vedete che poi torna indietro all'interno di della forbicina troviamo questi altri comandi che sono uno la regolazione del volume della clip ok? se l'abbasso o l'alzo non si sente assolutamente nulla può darsi che questa non abbia suono andiamo un po' indietro aspettate un attimo andiamo indietro ecco ovviamente per uscire dalla funzione per ritornare alla timeline dobbiamo dare l'ok sentiamo se questo ha l'audio ecco questo è l'audio allora andiamo qui andiamo qui ecco questo è l'audio principale scusate l'audio della clip dunque quindi ci sono tante regolazioni vedete che abbiamo un sacco di regolazioni che fa sì che questa applicazione sia una delle migliori ok? gratuite quindi abbiamo questa serie di opzioni all'interno e poi vedremo ovviamente mano a mano tutto quello che concede il primo montaggio abbiamo mentre l'inserimento che è una colonna sonora non può mancare qui ci sono tutte le colonne sonore che abbiamo disponibili su questa applicazione ok? possiamo selezionare e andare ad ascoltare ok? torniamo indietro sempre con la freccetta e torniamo indietro con la X e poi abbiamo ovviamente gli effetti sonori ok? questa volta si torna indietro con la X qua sopra oh scusate sono uscito dal progetto non è la X allora vediamo come si torna indietro qui niente si torna indietro semplicemente con la spunta poi abbiamo ovviamente la possibilità di inserire un audio da un altro filmato molto interessante questo e abbiamo la possibilità di ovviamente fare il doppiaggio che poi vedremo come si fa torniamo indietro con la nostra freccetta il testo ovviamente possiamo inserire un testo con la nostra spuntina lo diamo lo posizioniamo questo ovviamente si può posizionare allargare come in tutti i programmi che abbiamo visto e abbiamo una serie di opzioni che poi vedremo nel dettaglio ok questa è una panoramica ragazzi una panoramica abbiamo la possibilità di inserire ovviamente gli adesivi emoji è quello che più ci piace per far diventare i nostri filmati divertenti e piacevoli poi ovviamente torniamo indietro andiamo a vedere cosa ecco il menu si torna indietro ovviamente diciamo le categorie sotto categorie quindi questo si può sapere benissimo come funziona possiamo inserire un overlay clicchiamo qui e andiamo a inserire un'altra immagine o un'altra clip io prendo un'immagine per diciamo praticità per velocità diciamo dell'arena internet che oggi mi sembra che sia abbastanza seduta ma qua foto non me le vede comunque noi non ci facciamo questo problema ce ne andiamo a prendere di qua oggi si oggi è un pochino meno male che abbiamo una fibra ragazzi tutti quanti perché qui se non avessimo una fibra saremmo a posto le foto non le vede più va bene andiamo qua e andiamo dentro preferiti ok sicuramente non so se ho preso preferiti aspettate un attimino che è recente ho preso preferiti dove cavolo sei eccolo qua preferitoni ah non mi vede nulla oggi proprio ah che bello ragazzi andiamo in recenti ci sarà qualcosa in recente di fotografia ahiaiaiaiai non va bene così sei gratuito ma come mai questo problema sono tutti video e vabbè noi prendiamo un video ragazzi che ce ne prega andiamo qua avanti e come potete vedere adesso verrà messo in overlay ok abbiamo ovviamente la possibilità di spostarlo di ingrandirlo eccetera eccetera come tutte le applicazioni che si rispettino di questa fascia ok torniamo indietro con la freccetta andiamo indietro con la freccetta e andiamo avanti ci sono un sacco di cose da poter inserire in questa applicazione veramente tante tra cui gli effetti ovviamente gli effetti su c'è solamente vedere cosa si vede da casa c'è solamente vedere cosa si vede da casa mia dal terra vedete che c'è solamente vedere cosa si vede da casa mia c'è solamente vedere cosa si vede da casa mia avete visto che miriadi di effetti che abbiamo ok potete inserire all'interno delle nostre composizioni non ho parole è gratuito io non ho parole mi sa che ci sarà qualche cosa da pagare tra qualche mese comunque andiamo avanti alla scoperta di questa applicazione abbiamo i filtri ovviamente da poter inserire all'interno delle nostre composizioni cliccando su una aspettata torniamo indietro possiamo inserire i filtri dicevamo clicchiamo sui filtri e inseriamo i filtri su il nostro video ok abbiamo una vasta scelta di filtri guardate quanti ce ne abbiamo ce ne abbiamo veramente tantissimi per ovviamente per annullare il filtro andiamo su il divieto andiamo ad accettare torniamo indietro vedete che c'è anche il livello delle freccine molto carino poi come ultime cose cosa abbiamo ovviamente la possibilità di cambiare l'aspetto del nostro filmato ok di metterlo come più ci aggrada e come dobbiamo ovviamente dove dovrà andare a finire ho scritto questo filmato andiamo a cancellare subito questo testo per cancellare il testo si fa così si va ovviamente in T vedete che compare il mio testo devo selezionare quello che io sto ovviamente editando e lo posso cancellare con la lettera X ok faccio così anche questo con la X posso fare come tutti i programmi più o meno è la stessa la stessa pappetta ci abbiamo la possibilità anche di poter inserire ecco dei colori di fondo come in shot come abbiamo visto in shot possiamo inserire ovviamente un background con anche la possibilità di inserire un'immagine di fondo ovviamente presa dalla nostra libreria oppure semplicemente mettere un effetto blur al di sotto del nostro filmato ok che prende mi sembra la clip principale no quella è importata adesso mi sembra quella principale cosa cavolo ha preso vediamo un po' si prende quella principale pare ok andiamo indietro come ultima cosa cosa c'è c'è la possibilità ovviamente di abbiamo saltato forse il cestino no abbiamo allora questa possibilità ovviamente di editare i parametri delle clip che sono le solite cose abbiamo i filtri da inserire sulla clip e poi abbiamo i parametri che possiamo ovviamente cambiare cambiare i parametri come saturazione brillantezza luminosità eccetera eccetera quindi niente di non visto diciamo la verità sono tutte cose che ovviamente si hanno all'interno delle clip ecco adesso l'ultima cosa l'ultima parte andiamo a vedere l'esportazione quando esporta voglio vedere proprio se in tempo reale se inserisce delle filigrane l'esportazione si fa con non ve l'ho fatto vedere sono troppo veloce qua in alto e andiamo a selezionare la nostra risoluzione e anche i frame per secondo molto carino questa cosa qua molto carino save a questo punto genera il filmato vedete questa striscia che praticamente scorre sullo schermo e poi abbiamo o l'esportazione si vede che è orientato più a tiktok esportazione su tiktok oppure ovviamente possiamo andare su qualsiasi altro tipo di social o qualsiasi tipo di destinazione oppure facciamo don ed è stato salvato nel nostro rollino fotografico andiamo a vedere andiamo a vedere subito se ha inserito qualche filigrana vedete la libreria c'è ancora sono contento andiamo a vedere vedete che non c'è nessuna filigrana ok nessuna filigrana all'interno di questo di questo filmato quindi pare 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 ragazzi che finora sia gratuito allora ragazzi avete visto questa applicazione come bella performante abbiamo visto una panoramica ovviamente poi andremo avanti con tutte le lezioni che seguiranno per imparare al meglio utilizzare questa applicazione che come ho già detto è completamente gratuita completamente gratuita anche per Android compatibile sono molto contento per tutti i possessori di Android come vedete io ho un S10 nelle mie mani ma ho anche un S7 praticamente dietro le quinte quindi non sono ovviamente contro Android la nostra è una scelta di appartenere al mondo Apple perché ovviamente siamo cresciuti così e andiamo avanti col sistema che abbiamo imparato quindi sono molto contento che sia anche su Android vi ringrazio per aver seguito questo video se volete iscriviti al canale lasciate un like un commento quello che vi fa più piacere ovviamente ringrazio tutti come ho già detto gli iscritti al canale quelli che arriveranno ovviamente da adesso in poi vi invito a iscrivervi anche voi che vi vedo nelle statistiche che siete non iscritti e guardate i video iscrivetevi allora gratuito allora che è successo quindi vi ringrazio e vi mando al prossimo video un abbraccio un abbraccio Grazie per la visione!